Continua la preparazione della Nazionale Azzurra di Antonio Conte in vista dell'ottavo di finale ad eliminazione diretta che si svolgerà lunedì prossimo a Saint-Denis. Buone notizie arrivano dall'infermeria con Candreva che è recuperato dopo l'infortunio subito nella gara contro l'Irlanda. Conte sta considerando diverse ipotesi come ad esempio quella di Florenzi di essere spostato sulla fascia di destra. E tra l'altro Bernardeschi potrebbe avere un vantaggio in più rispetto ad El Sharawi. Per quanto riguarda invece la conferenza stampa della giornata di venerdì, Giorgio Chiellini ha detto chiaramente che non siamo né pip né fenomeni. Daremo il massimo contro una squadra che ci ha sempre portato un po' di difficoltà ma che speriamo di poter vincere. Mimmo Siena, Speciale News.